Come si ricorda il nostro paese? Grazie a quel periodo molto fiorente forse ogni tanto ci si ricorda un po' meno. Questo è il caso di un grande regista, Marco Ferreri, quindi mi unisco un po' all'appello nel tentativo di trovare il modo di recuperare un grande film, l'Udienza, che il Museo di Torino sta cercando di riportare alla luce perché sono quelle piccole e grandi opere che ci permettono ancora di andare fieri del nostro paese. Grazie a tutti.